Oh, eccoci qua. Allora, non indosso questa maglietta per caso. In realtà ancora mi domando come sia possibile che mi chiediate sempre dove posso acquistare la tua maglietta, dove la trovo, dove è. Mi fa ancora un po' strano il fatto che qualcuno possa desiderare la mia maglietta. Fatto sta che, eccoci qua, questa è la vincita da trasferta, secondo me è la più bella delle due. Anche il pantaloncino, nice dietro, con il numero 11. È la mia, è la mia taglia. E ho deciso che la regalerò a uno di voi. Se il vincitore sarà qui in zona, andrò a casa a portargliela, suonerò il campanello, ciao sono Tommy, questa è la mia maglia. Se invece sarà un po' lontano, andrò a spedirgliela come fanno tutti. Ma come si fa a vincerla? Parto col dire che non ho inventato niente, anzi ho preso spuderatamente il spunto dal video di Ale della Giusta, che ha fatto un giveaway un po' di tempo fa di un viaggio in America. Per vincerla, taggatemi su Instagram in una storia, questo è il mio profilo, TommyMarino1, in cui dite perché dovrei regalarla proprio a voi. Io guarderò tutte le storie, con calma, me le salvo tutte. Dopodiché sceglierò uno di voi e gli andrò a portare la maglia a casa, se è vicino, altrimenti gliela spedirò. Avete tempo fino a lunedì 7 febbraio, il 7 me le riguardo tutte, scelgo il vincitore, faccio un video, vi dico chi ha vinto e nel caso ve la porto a casa. Maglietta mia più pantaloncino. Ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi al canale, con il mentre riportare un sacco di contenuti, non è semplice, ce la sto mettendo tutte. Alla prossima, ciao! Alla prossima, ciao!